Travolto da un'auto, un uomo di origine lituana è morto nella tarda serata di ieri nell'ospedale Spock di Corigliano Rossano dopo vari tentativi degli operatori sanitari di salvargli la vita. La vittima, Vaderif Tresin, aveva 62 anni. L'incidente si è verificato sulla via provinciale a Corigliano Rossano, alle porte di Schiavonea. Secondo quanto emerge, il conducente del mezzo si sarebbe fermato e chiamato i soccorsi. Sul posto si sono recati i carabinieri del reparto operativo di Corigliano Rossano ed un'ambulanza del 118 che ha trasferito il lituano già in gravi condizioni nell'ospedale Spock dove i sanitari di turno hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte. I militari hanno effettuato i rilievi al fine di risedire alla esatta ricostruzione del dramma. Il tratto di strada collega l'area urbana di Corigliano alla zona marina di Schiavonea ed è considerato ad alto traffico, ma è poco illuminato ed il campo visivo è notevolmente ridotto. La zona di Schiavonea ospita numerosi comunitari ed extracomunitari impegnati prevalentemente come braccianti agricoli nella raccolta degli agrumi. Spesso trovano alloggi di fortuna, nella peggiore delle condizioni, in alcune baracche ormai storicizzate e quando finiscono di lavorare rientrano nei luoghi di ritrovo a piedi o in bici, ai margini delle strade cittadine. Ieri è una nuova tragedia e non è la prima. Grazie per la visione!